benvenuti in questa guida top 7 puffletto di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo talamo italia puffletto flash flash è un prodotto di qualità eccellente realizzato interamente in italia il design moderno e funzionale lo rende perfetto per qualsiasi ambiente la trasformazione da puffletto singolo è semplice e veloce il tessuto resistente e di alta qualità garantisce comfort e durata nel tempo punteggio 80 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo evergreen web puffletto singolo singolo con materasso water foam è una soluzione salvaspazio pratica ed elegante il tessuto grigio scuro è sfoderabile e lavabile mentre l'altezza di 10 centimetri offre un comfort ottimale ideale per camerette soggiorni e altri spazi limitati ottimo prodotto punteggio 83 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo evergreen web puffletto singolo singolo con materasso in water foam alto 10 centimetri salvaspazio pieghevole è una soluzione pratica e comoda per la camera da letto cameretta o soggiorno il materasso in water foam offre un comfort eccellente e il tessuto sfoderabile e lavabile rende facile la manutenzione punteggio 79 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare evergreen web puffletto singolo questo puffletto è una soluzione pratica ed elegante per la cameretta il materasso ortopedico offre un comfort eccellente mentre la copertura sfoderabile e lavabile lo rende facile da mantenere ottimo rapporto qualità prezzo punteggio 88 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo divano alfa sofa mood roma con ho acquistato questo divano per la mia casa e sono rimasto molto soddisfatto è molto comodo con una penisola reversibile un puff contenitore un letto estraibile ed i poggiatesta reclinabili la qualità è eccellente il colore fango argento è molto elegante punteggio 85 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo divano letto singolo salvaspazio con questo divano letto è una soluzione salvaspazio perfetta per chi ha poco spazio il cuscino sfoderabile e la poltrona reclinabile estendibile sono molto comodi mentre la chaise long permette di distendersi completamente il puff letto è anche molto pratico e offre una buona stabilità punteggio 87 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica ponti divani sofia singolo sofia il puff letto singolo sofia è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione pratica ed elegante il materasso in poliuretano espanso di ottima qualità offre un comfort eccezionale mentre la rete robusta italiana assicura un supporto sicuro punteggio 97 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale